Buongiorno e ben trovati in questa edizione di mattino 6 venerdì 12 gennaio 2018 tra poco sfoglieremo le pagine dei quotidiani locali vedremo anche le prime delle principali testate nazionali il sì della giunta regionale all'accoglimento dei rifiuti da Roma ma anche il bilancio dell'attività del consiglio regionale sono tre gli argomenti principali che troveremo appunto sui quotidiani abruzzesi vedremo a tal a proposito anche i servizi del Tg6 partiamo subito con le prime pagine delle testate locali con le quattro edizioni del centro qui siamo sull'edizione di Pescara nell'apertura vertice dei sindaci contro lo smog a Pescara novedì riunione tra i cinque comuni per valutare le le sue sue da adottare poi sotto la testata la candidatura di D'Alfonso fa discutere il PD pedaggi a 24 25 i sindaci incontrano strada dei parchi ora gli sconti lavoro in Abruzzo lolli crisi industriali e ancora emergenze poi la fotonotizia leontino e virginia un amore che dura da 70 anni nozze inossidabili per la coppia di San Giovanni Teatino e poi ancora a Francavilla Luciani pronto a dimettersi per la regione il sindaco un passo dalle dimissioni a Francavilla l'indomani della candidatura di D'Alfonso al Senato Antonio Luciani potrebbe lasciare il comune entro il 24 febbraio prossimo e poi a Montesimano una petizione delle mamme per l'ecografo a Pescara addio a Madonna della storica band dei Nassa e poi ancora in basso rifiuti da Roma l'Abruzzo dice sì regione o che è la delibera in tre mesi arriveranno 39 mila tonnellate monitoraggio sui tir quindi il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna come è fragile quel bacio sulla Torre Eiffel. Vediamo ora la prima pagina dell'edizione di Chieti questa è l'apertura case popolari 129 famiglie in code il 24 gennaio sorteggio per la graduatoria finale l'ordine sarà rivoluzionato e poi ancora a Lanciano abbandonano familiari disabili due a processo sempre a Lanciano comune gara da 8 milioni per 90 rifugiati e poi a Vasto un'altra auto va a fuoco la terza in 48 ore. Vediamo ora l'edizione di Teramo con questa apertura concorsone Asl respinti i ricorsi alcune decine dei 3.600 candidati chiedevano di annullare la prova e poi ancora al centro la fotonotizia veterinaria diventa dipartimento di eccellenza la facoltà Teramana ottiene un bonus di 6,5 milioni e poi tangenti a Giulianova ha scagionato il costruttore di Eleuterio con il GIP Canosa che ha firmato l'ordinanza di archiviazione per il costruttore presidente regionale del Lanci e coinvolto nell'inchiesta Castrum e poi ancora sentenza a Roseto violentò la figlia non sarà più suo padre e poi ancora il caso Cirso due a giudizio per la puzza dalla discarica. Vediamo ora l'edizione aquilana del centro via libera al ponte della Rivera. L'Aquila ha ripreso il progetto del 2016 che collega alla Mausonia e poi la fotonotizia 60 parroci festeggiano gli 80 anni di Molinari messa con l'arcivescovo emerito e poi ancora Ortucchio un indagato per la morte dell'operaio c'è un indagato di omicidio colposo per la morte di Viglio di Salvatore operaio 63enne ex camionista l'indagato è titolare della ditta che stava tagliando gli alberi vicino al laghetto di Ortucchio e poi a Scanno torna in libertà il contabile del comune marsica iniziativa del centro sisma 1915 domani l'inserto per ricordare. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo ecco qui l'apertura la regione sì ai rifiuti da Roma la spazzatura sarà conferita agli impianti della Deco e di Cogesa delibera valida soltanto quando si conoscerà il numero dei passaggi del tir e l'impatto ecologico sotto la testata le parole del senatore Antonio Razzi sono pronto a ricandidarmi a Lanciano madre cieca e figlio disabile lasciati i soli parenti a giudizio e poi per il calcio a Pescara il Crotone vuole bene lì impasse su Embalo e poi sul fronte Teramo il Teramo su Carletti e Milani dopo che il Vicenza proseguirà il campionato la vastese ha preso Maronilli ma trasferta vietata per i tifosi ad Avezzano e poi di Spalla bilancio 2017 approvate 59 leggi in più dal consiglio regionale poi le parole del presidente di Pangrazio si tratta del 30 per cento di attività aggiuntiva dell'ente la foto notizia ecco qui Camera di Commercio l'eredità difficile l'associazione alle prese con il dopo Becci e poi vedremo all'interno si parlerà anche dell'eventuale candidatura di Enrico Mareviero che però si starebbe un po' sfilando e poi sempre in taglio medio caso autostrade mobilitazione contro gli aumenti la protesta di sindaci amministratori all'uscita del casello dell'Aquila Ovest e poi ancora andiamo con la città il quotidiano della provincia di Teramo questa è l'apertura doppio progetto per il quarto lotto in regione l'ANAS svela i tracciati sulle due sponde del Tordino progettazione alle battute finali sotto la testata Atrial voto iniziata la corte ai voti di Marcone cronaca vendeva eroina anche agli arresti domiciliari scendiamo in basso concorsone regolare il tar respinge il ricorso di 17 esclusi e poi leggiamo di spalla università di Teramo veterinaria nuovi ricercatori grazie ai fondi dell'eccellenza Teramo completamente al buio la stazione ferroviaria e poi in basso via libera ai fanghi davanti all'area marina protetta i comuni del parco marino preparano il ricorso al tar. Scendiamo ancora in basso siamo in Val Vibrata intanto a Nareto fa il pieno con i soldi del comune e poi ad Al Badriatica Asta Cosmi e Capuano tecnici rispettivamente di Teramo Ascoli e San Benedettese grandi ospiti al premio dello sport. Vediamo ora la rassegna delle testate nazionali le prime pagine iniziando dal Corriere della Sera. Questa l'apertura nasce l'intesa tra Italia e Francia spinta alla Unione Europea. Macron contento di lavorare con Gentiloni e poi il caso sotto la testata l'autogol di Messi sul compagno malato. Una foto di Lionel Messi con l'ex compagno di squadra il francese Abidal. E poi siamo alla fotonotizia. Basta con la plastica usa e getta l'obiettivo a Londra bando totale entro 25 anni. In taglio medio alla politica Grillo non fa campagna e stacca il blog da Casaleggio. Berlusconi e Salvini si dividono sulla Fornero. Avanti con la prima pagina di Repubblica. L'apertura. Grasso e Boldrini. Fare l'accordo regionali dai due presidenti sia all'intesa PD-LEU. Fermare la destra in Lombardia e Lazio. Effetto Maroni. Lega divisa. Attenzione Berlusconi e Salvini. Gelmini. In Friuli. Candidato di Forza Italia. E ora siamo alla fotonotizia. Mail. La svolta verde contro la plastica. Una guerra mondiale. Scendiamo ancora. Macron a Roma in questi giorni. Migranti. Patto Italia-Francia. Riportare stabilità in Libia. ONU. Il piano antitrafficanti. E poi ancora l'università. Ecco chi prende i fondi per la ricerca. Il Nord al Top protesta. Il Sud. L'inchiesta. Svizzera. Paradiso delle criptomonete. Ma dopo il no di Seul. Il Bitcoin crolla. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco l'apertura. De Benedetti. Il governo Renzi. Semua. E confessa che fu lui a suggerire il Jobs Act al Premier. Roma indaga sulla fuga di notizie e non sull'insider. Il finanziere in consob. Colazione con Matteo. Cena con Boschi e Padoan. E poi ancora il gruppo svizzero. Renzi. L'ingegnere sbugiardati da UBS. Nessuna notizia sul decreto banche. La nuova inchiesta. Procura di Roma. Nessuna delega alla finanza. Per fare l'indagine. E poi un taglio medio. Leggiamo. Bavaglio. Ai giornalisti liberi. Dovranno dire per chi votano. Dopo la delibera di ieri di Agicom. Varate le regole per la campagna elettorale. Nelle tv private. Poi ancora. Stato mafia. Di Matteo. Scalforo mentì. Su Scotti. Per nascondere il patto. Questa è l'accusa del PM di Palermo. E poi Ribaltone. Lo avevano assolto. Cena. Spese del Comune. Due anni a Marino. in appello. Siamo al messaggero. Ecco l'apertura all'Italia. Derby franco tedesco. Lufthansa scrive a calenda. Non compriamo se prima non gestite voi. Tagli ed esuberi. A sorpresa scendono in campo Air France e Delta. L'operazione può slittare. A dopo il voto. E poi sotto la testata. L'inchiesta tra sale deserta e nuove tecnologie. Le ricette anticrisi per il cinema italiano. E per il calciomercato. Si parla di Roma. Monci Pallotta. Vertice a Londra. Nel mirino Darmian. Juan Fran. E l'ex pescarese. Lucas Torreira. E poi la foto. Notizia. Macron rapito dalla Domus Aurea. Elogia Roma. Qui il gelio europeo. Endorsement per gentiloni. Su Unione Europea. Immigrati. E poi in taglio medio. Scontrini. Marino condannato. L'ex sindaco. Sentenza politica. L'appello cancella l'assoluzione. Due anni per i rimborsi sulle cene. E poi in basso. Da una parte. Brexit. Il referendum bis di Farage. L'ex leader UKIP. Serve più legittimazione. May lo esclude. E poi. Spelacchio. Danno di immagine alla città. Nel giorno del funerale. L'accusa della Corte dei Conti. La stampa che apre subito con questa foto a centropagina a Teburba nel cuore della protesta tunisina. Viaggio nel piccolo paese dove è partita la rivolta contro il Carovita. Qui i giovani sognano l'Italia. E poi in basso. Regionali. Lazio vai. Cinque stelle. In Lombardia. Avanti. Fontana. Berlusconi. Non buttare tutta la Fornero. Nuova flessibilità per le pensioni. Ed è un sondaggio shock per il PD a due mesi dal voto. Grasso no a Gori e sì a Zingaretti. La prima pagina del tempo che apre appunto con l'inchiesta e con la condanna a carico dell'ex sindaco di Roma Marino. Stavolta paga Marino le cene a sbafo dell'ex sindaco. Scontrino Gate condannato a due anni in appello. Tutto partì da un'inchiesta del tempo. Contestati 50 pasti con la carta di credito del comune. E poi ancora la fotonotizia. Via della scrofa. Riecco i maiali che girano per le strade di Roma. Quelli che la raggia aveva promesso di far sparire. E poi ancora in basso Macron dribbla rifiuti e degrado. Colle oppio pattumiera nonostante la visita del presidente francese. Poi ancora rubano gioielli ai Rom morti. Tombaroli scatenati al cimitero di prima porta. Il sole 24 ore. L'apertura tassi. La BCE è pronta ad anticipare la stretta. La reazione dei mercati. Scende il Bund e sale l'euro. Nei verbali di dicembre l'ipotesi di cambiare subito Guidance. Se la ripresa accelera. Andiamo ora sulla prima pagina di Libero. Senza governo si sta meglio. La Germania conferma la regola. La Merkel non riesce a formare l'esecutivo da quattro mesi. Ma il PIL tedesco tocca i massimi. Era già successo al Belgio. 541 giorni col premier vacante. Alla Spagna quasi un anno. E all'Olanda 208 giorni. I paesi europei privi di guida politica. Dunque crescono. La fotonotizia. Gentiloni ormai è servo felice di Macron. Il presidente del Consiglio apre un trattato con i francesi. Per farsi fregare meglio. E poi in basso Berlusconi. Larga intese oppure stretta. Silvio D'Avespa. Accordo con l'Opidisi accetta il nostro programma. La prima pagina del giornale. Botte nella Lega. Carroccio in crisi. Maroni dice Salvini. Stalinista. Il segretario è pura le liste. Berlusconi ecco cosa farò sulle pensioni. Poi Nuova Parcondicio. Giornalisti in tv sotto controllo. Cosa da ubriachi nel fondo di Alessandro Sallusti. E poi Caos 5 Stelle. Maiali a Roma e Autoblù a Scrocco a Torino. In taglio medio beffa nello scandalo banche. Indagano chi ha svelato l'intrigo. Renzi De Benedetti. Proseguiamo con la prima pagina del manifesto. pane arabo. Ecco qui l'apertura. In Tunisia un'altra notte di scontri e arresti. Dilaga la protesta contro l'austerità imposta dal governo. A sette anni dalla rivoluzione dei Gelsomini. Che portò alla caduta del dittatore Ben Ali. Società civile sinistra del fronte popolare. Rialzano la testa. E ora la prima pagina della verità. Ecco l'apertura, gli affari con le banche dell'ingegnere La Bufala. Carlo De Benedetti tira in ballo UBS per far credere che tutti sapessero del decreto sulle popolari. Sul quale speculò. Ma è falso. Spunta il verbale delle sue parole alla Consob. Per me 5 milioni non sono nulla. Vedo spesso Renzi e Laboschi a cena a casa mia. La foto notizia con il ministro dello sport Lotti. Il ministro dello sport non sa che l'Italia è esclusa dai mondiali. E quindi in taglio medio regalati 15 milioni all'azienda che nelle licenze a 497 su 537. Il Piemonte ha elargito un fiume di denaro pubblico alla brasiliana Embraco che annuncia lo smantellamento della fabbrica. Andiamo a chiudere con l'avvenire. Vediamo il titolo d'apertura. Aborti ancora in calo ma sempre più pillole. Interruzioni al dato più basso ora sono invisibili. Nella relazione sulla legge 194 un fenomeno che diminuisce 85 mila casi nel 2016 anche con l'esplosione dei farmaci d'emergenza. Lasciamo la rassegna delle prime pagine nazionali. Torniamo sui quotidiani locali. Andiamo sul centro. Pagina 2. L'argomento è il lavoro. Crisi industriali e ancora emergenza. Lolli. I numeri dell'economia migliorano. Bisogna mantenere l'attenzione alta su tante aziende in difficoltà. Qui vediamo delle foto, Honeywell, Intex, E-Care, tante situazioni, tanti nodi da un punto di vista dell'occupazione. A tal proposito, dopo le brutte notizie arrivate nelle ultime ore dalla Intex all'Aquila, i lavoratori Intex presidiano la regione. Da ieri un camper staziona davanti a Palazzo Silone al via le lettere di licenziamento per i 68 addetti. E poi ancora, pagina 3, con il capitolo rifiuti. L'Abruzzo dice sì a 39.000 tonnellate. Ieri la delibera della Giunta regionale che autorizza il conferimento dei rifiuti in tre impianti abruzzesi, ma solo per 90 giorni. Il quantitativo si va ad aggiungere alle 40.000 tonnellate annue già trattate a Sulmona. Aielli e Chieti d'Alfonso precisa che l'ok dipende da quanti tiri arriveranno in Abruzzo per il trasporto del pattume. E poi un altro argomento molto attuale, quello del rincaro dei pedaggi presso strada dei parchi. Ebbene, i sindaci subito gli sconti ai caselli, confronto con strada dei parchi, no ai rincari, gli utenti sono penalizzati. E poi in basso, la replica del concessionario, tariffe disponibili a collaborare. La società ricorda che è riversa allo Stato il 57% degli incassi. Proseguiamo e andiamo alla pagina dell'Abruzzo, ecco qui pagina 12. Verso le elezioni la candidatura di D'Alfonso fa discutere il PD e il presidente del Consiglio di Pangrazio assicura ci sono i tempi tecnici per arrivare in regione a fine legislatura. Poi le parole di Pietro Di Stefano, esprimo perplessità e preoccupazione, avrei preferito un partito che discute e poi decide in modo condiviso. Le reazioni in lista al Senato, una scelta comoda, duro il giudizio della Marcozzi dei 5 Stelle, sospiri di Forza Italia, lo avevo detto, di Dalmazio, ora si cambia. Andiamo in basso, un milione risparmiato e 56 leggi approvate, il bilancio di un anno di attività del Consiglio regionale, buoni anche i numeri del Corecom. Allora andiamo a vedere il servizio relativo al bilancio del 2017 dell'attività del Consiglio regionale. Più leggi, taglio ai costi di funzionamento, sostegno alle piccole imprese del cratere, un Consiglio regionale sempre più aperto all'esterno. Si potrebbe sintetizzare così l'attività dell'emiciclo nel 2017 presentata in conferenza stampa dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo di Pangrazio. Il costo dell'Assemblea legislativa è passato dai 24 milioni di euro circa del 2017 ai 23 milioni e 360 mila euro circa del 2018, con il triennio 2018-2020 che fa registrare un consistente risparmio della spesa, pari a oltre un milione di euro. Sul tema dei lavori svolti dall'Assemblea legislativa si registrano poi 59 leggi approvate nel 2017, il 30% in più del 2016, con solo 5 leggi impugnati del Governo. 42 sono di iniziativa consigliare, 17 dell'Aggiunta regionale, un dato che conferma il ruolo centrale dell'Assemblea legislativa. Numeri importanti anche per il Corecom Abruzzo, che nel 2017 ha fatto registrare 7800 procedure di conciliazione che si sono chiuse positivamente per l'85%. Il Corecom ha avuto un ruolo importante anche nell'emergenza neve, affinché il cittadino potesse riavere al più presto la funzionalità dei servizi internet e di telefonia. L'Assemblea legislativa è sempre più social inoltre e aperta all'utilizzo dei social network, numeri importanti per l'ufficio stampa e comunicazione, che ha registrato 6336 followers sulla pagina Facebook, tra quelle più seguite dai consigli regionali in Italia. Tanti followers anche su Twitter e tante visualizzazioni sul canale YouTube, 1421 notizie pubblicate dall'Agenzia Acra e tantissimi visitatori sulla pagina e tanti accessi giornalieri. C'è un risparmio del Consiglio regionale, nel 2017 circa un milione di euro, questi soldi vengono indirizzati verso soggetti che ne hanno bisogno. E quindi di nuovo abbiamo rifinanziato la legge sulle piccole imprese dell'ultimo terremoto 2016-2017 dei comuni nel cratere e una gran parte, 300 mila euro, per la scontistica, gli studenti e i lavoratori dei cosiddetti comuni delle aree interne che hanno difficoltà orocratica che sono rimasti esclusi dagli sconti di quelli che stanno nelle cosiddette aree di crisi, individuate dal decreto Barche e da quelli che fanno parte dei comuni di cratene nell'ultimo cratere sismico. Quindi mi pare che c'è un Consiglio che continua a lavorare, va oltre il suo ruolo istituzionale, rapporto grande con le istituzioni, vuol dire che c'è un'assemblea che comincia a ragionare in termini positivi per la collettività abruzzese. I cittadini potrebbero cominciare ad essere, non dico soddisfatti, ma ad apprezzare il lavoro fatto. C'è molto ancora da fare. Gli ultimi due anni speriamo di arrivare a un livello ancora migliore. Riprendiamo sul centro in giro invece che col figlio. Il licenziamento è giusto. In castazione il caso di un papà abruzzese che aveva chiesto il congedo parentale. La Corte ha abusato del permesso concesso dalla legge per la cura del minore. Poi sviluppo e turismo, Franceschini dice sì al nuovo distretto, Maiella è madre. Andiamo ora con le pagine di Pescara. La questione è quella dell'inquinamento che è alle stelle, come titola il centro. Vertice tra i cinque comuni per l'allarme smog. L'unidì la riunione con Montesivano, Spoltore, Francavilla e San Giovanni. Intanto salgono a sei giorni con le polveri alte. Qui possiamo vedere questa tabella riepilogativa con alcune vie di riferimento per la misurazione del teatro dell'annunzio via Firenze e via Sacco. Vedete situazione negativa nel primo giorno dell'anno, il primo di gennaio. Situazione che è migliorata il 2, il 3 e il 4, mentre è tornata a essere scadente se non pessima dal 5 fino alla giornata del 9. Vedete tanti bollini rossi con la dicitura pessima. E quindi insomma lunedì ci sarà questo vertice tra i comuni per vedere quali provvedimenti prendere. Valori altissimi del PM10 anche martedì scorso in via Firenze e al teatro d'annunzio. Avanti ancora due anni per l'operazione alle Tonsil, la protesta di una famiglia di Montesivano, la ASL. Sono tanti i pazienti in attesa, diamo priorità ai casi più gravi. E poi ancora chiude la libreria Giunti in Corso Vittorio. La direzione della libreria lì è poco frequentata, ci arrendiamo alle leggi di mercato. E poi ancora Palazzi della Regione, scontro in tribunale sui permessi scaduti, ricorso della Società Iniziative Immobiliari contro il Comune. Per aver annullato il contratto è richiesto 992 mila euro. Qui una foto del Presidente Marco Sciarra. Avanti ancora, siamo a pagina 17. Licenziate senza preavviso il giudice. Vanno reintegrate. Erano andate a casa dopo 10 ore di lavoro, nonostante l'invito del titolare a ultimare il progetto. Le due dipendenti fanno ricorso e hanno la meglio. L'azienda dovrà pagare le mensilità perse. E poi ancora addio a Madonna. L'imprenditore cantante, componente dello storico gruppo dei Nassa, animò la movida pescarese. Con Marinelli entrò anche nella Pescara Calcio, suo il marchio Top Bronze. Avanti ancora, siamo a pagina 19. Abbiamo visto già in prima pagina nella fotonotizia, nell'edizione di Pescara. Leontino e Virginia, la bellezza di amarsi a 70 anni dalle nozze. Lui ha 94 anni, lei 93, vivono a San Giovanni Teatino con la grande famiglia che hanno creato. Il segreto di un matrimonio così lungo, litigare come Sandra e Raimondo e contare l'uno sull'altra. In basso, lo scienziato Closciar che aiuta i senza tetto. Mi scelle tra i volontari del Centro Britti. Sono stato soccorso e voglio restituire ciò che mi è stato dato. Proseguiamo e torniamo a parlare di politiche e di elezioni con il sindaco di Francavilla Luciani pronto a dimettersi per correre come governatore. Il sindaco eletto solo un anno fa pensa di chiudere entro il 24 febbraio il suo secondo mandato amministrativo per non costringere il comune a un lungo commissariamento fino al 2019. Qui una foto con il governatore D'Alfonso e Antonio Luciani che da tempo non nasconde di mirare proprio alla carica di governatore della regione Abruzzo. Pagina di Montesilvano. Le future mamme chiedono l'ecografo a tempo pieno. Costrette ad allungare i tempi di attesa dei test ginecologici, le gestanti raccolgono firme per avere un altro apparecchio. E poi ancora in basso, 13 poster per aiutare la pace. Domani i premi e gli studenti che hanno partecipato al concorso del Lions. Restiamo sempre in provincia di Pescara. Siamo a Pianella, olio DOP, ieri e oggi una giornata di studi a Pianella. Domani in comune l'appuntamento promosso dal consorzio di tutela Prutino Pescarese sulle tre cultivar locali. Poi ancora a Penne il reparto di ortopedia avrà un nuovo medico. La direzione sanitaria dell'ospedale annuncia il bando. Entro 30 giorni sarà quindi sostituito lo specialista andato in pensione dal primo di gennaio. Pagina di Chieti, un caso nel Frentano, abbandonano madre e fratello disabili. Rinviati a processo gli altri due figli della donna, familiari lasciati soli in casa per ore nel degrado, senza cure e senza cibo. E poi ancora, altra auto a fuoco e la terza in 48 ore a Vasto, maggiorone in fiamme a San Tommaso. Martedì notte era toccato a due vetture in via Suriani. E poi la Germania cerca maestri alla D'Annunzio, patto tra la città di Wolfsburg e l'Università per dare lavoro ai laureati. In paglio stipendi da 2.369 euro. Vediamo il servizio del TG6. Abbiamo costruito, grazie anche all'aiuto della nostra associazione degli abruzzesi in Germania, a Wolfsburg, abbiamo costruito questa bella opportunità che vede insieme in un protocollo che verrà firmato oggi l'Università d'Annunzio di Chiedi e Pescara, con il governo tedesco e noi, per la realizzazione di corsi nel periodo dell'infanzia ai ragazzi lì in Germania. Persone che andranno lì saranno una decina di persone con condizioni di lavoro significativamente buone, per cui con queste piccole cose costruiremo delle grandi opportunità. Un esperimento pilota che per la prima volta in Germania si compie, cioè la valorizzazione della cultura italiana in Germania attraverso l'insegnamento da parte di insegnanti di italiano e italiani che avranno un posto fisso, un posto a tempo indeterminato, sottolineerei anche con stipendio tedesco se posso essere realista, che è il doppio di quello di un insegnante di italiano, che attraverso laureati dell'Annunzio potranno essere coperti in un numero cospicuo per i prossimi anni. Un esperimento che si spera possa essere ripetuto anche in futuro? No, ma soprattutto verrà ampliato perché ci sono anche altri Stati e sono interessati tra questi la Svizzera a costruire condizioni per cui si riproducano attività anche in quei territori per i tanti italiani, quindi con i corsi di italiano e formazione legata anche al legame per la loro terra di origine che si farà pure in Svizzera e in tantissime altre parti. Pagina Aquilana sul centro, un ponte, nuove strade per la città, l'idea del collegamento con la strada Mausonia è inserita nel piano di risistemazione della viabilità alla stazione. Poi Molinari, 60 paroci per gli 80 anni, l'Aquila messa e taglio della torta per il compleanno dell'arcivescovo emerito. Poi ancora il terremoto 103 anni dopo, cerimonie in ricordo di tutta la Marsica, domani un inserto speciale in regalo con il quotidiano il centro. E infine la pagina di Teramo, l'università che vola, veterinario, ottiene l'eccellenza, avrà un bonus di 6,5 milioni, riconoscimento del ministero alla facoltà teramana che riceve punteggi altissimi per le strutture e la didattica. Il rettore, superate istituzioni prestigiose, il preside. Ora non fermiamoci, in cantiere il progetto Demetra che svilupperà una filiera sostenibile nella produzione animale ed è destinato a sfociare in una laurea magistrale. Ci fermiamo, spazio ora alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi la seconda parte di mattino 6. Buongiorno e ben ritrovati con la seconda parte di mattino 6. Siamo sul messaggero Abruzzo, l'emergenza della capitale della regione dice sì ai rifiuti di Roma. Poi ancora la spazzatura sarà conferita negli impianti Deco e Cogesa. L'autorizzazione è limitata a 90 giorni e condizionata ai controlli sull'aria. Vediamo a tal proposito il servizio del Tg6. Dall'Abruzzo ce l'ho che ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39.000 tonnellate distribuite su tre strutture a Chieti, Sulmona ed Aielli, le ultime due in provincia dell'Aquila. Lo prevede la delibera numero 1 del 2018 approvata questa mattina dalla giunta abruzzese relativa all'accordo di programma tra la regione Abruzzo e la regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della giunta ma a determinate condizioni come sono state illustrate dal governatore Luciano D'Alfonso a margine della riunione. D'Alfonso ha parlato di un atteggiamento di solidarietà istituzionale ad una richiesta di solidarietà istituzionale, richiesta che è stata anche ribadita dalla lettera della sindaca Raggi e da una richiesta che in precedenza era stata effettuata da Ama in una interlocuzione con le aziende dedicate di regione Abruzzo. Abbiamo adottato la delibera numero 1, ha spiegato D'Alfonso, sulla base degli elementi che ci sono stati forniti e sulla base anche di elementi ulteriori che dovranno arrivare da Ama. Poi, ha aggiunto, abbiamo imposto anche uno speciale monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, l'Arta, per quanto riguarda i luoghi per la verifica della qualità dell'area. La quantità dei rifiuti non potrà superare le 39.000 tonnellate distribuite sulle tre strutture. Un'ulteriore condizione poi è quella dettata dalla riunione con i tre sindaci dei tre comuni, le tre aziende e anche Ama per dettagliare il protocollo di collaborazione, poiché, ha detto D'Alfonso, vogliamo allineare i linguaggi collaborativi tra chi ha bisogno e chi deve corrispondere a questo bisogno. Riunione che sembra una risposta diretta al sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che aveva criticato la regione e soprattutto aveva criticato la non consapevolezza degli enti locali. Ad oggi, ha scritto Di Primio, la regione non ha inoltrato alcuna comunicazione formale al mio comune. In considerazione di questo, al fine di tutelare la salute dei miei concittadini e di quanti abitano nella Val Pescara, prima ancora di accogliere nuovi rifiuti nell'impianto di Casoni, esigo di conoscere dal presidente D'Alfonso la qualità e la quantità di rifiuti da trattare, la durata esatta del periodo di conferimento, nonché il numero di mezzi che giornalmente dovranno attraversare il territorio comunale. tutte risposte che si dovrebbero avere proprio nella riunione tecnica citata da D'Alfonso. Siamo sulle pagine di Pescara, avevamo visto già la fotonotizia in prima pagina. Maramiero si sfila sul dopo Becci, la perdita di Daniele mi ha addolorato, non ho la testa per pensare di assumere quell'incarico, dice l'imprenditore. Confindustria vuole mantenere la guida dell'ente camerale, pressing su Mauro Angelucci, rischio di commissariamento, Camera di Commercio e Chiedipescara in mezzo al guado dopo la scomparsa del primo presidente dell'unificazione. Il consigliere anziano Franco Danelli deve riconvocare il Consiglio per ufficializzare il successore. Poi in basso, a 90 anni, Angela dona sorrisi ai baby pazienti dell'ospedale per il compreanno la di Sciascio, ha raccolto fondi per ematologia e oncologia pediatrica. Poi scienziato ed ex clochard, volontario fra i senza tetto, Michelle Jansens, collabora al Centro Britti, voglio restituire quanto mi è stato dato. Andiamo avanti, siamo sempre nella pagina di Pescara. Emilio Madonna, voce della Dolce Vita, lo storico cantante di Nassa è morto ieri in ospedale, aveva fatto parte della prima formazione del gruppo musicale, un protagonista della Pescara degli anni 60, uomo di successo anche negli affari grazie al marchio Top Bronze. Era elegante e raffinato, così lo ricorda Erminio Di Tommaso, quante serate all'Happy Time. Poi in basso, 80 anni fa, la morte di D'Annunzio, partenza in musica per le celebrazioni, appuntamenti mensili fino al 27 ottobre, l'impegno di comune, Fondazione Tiboni e Centro Studi. Avanti con la pagina dell'area metropolitana. Due palazzi fanno tremare la giunta, la giunta è quella di Montesilvano, l'intervento del gruppo D'Andrea in zona Grandi Alberghi, divide l'esecutivo, anche il sindaco assente al momento del voto. Il progetto è destinato a completare l'area della nuova piazza, ma fa discutere la variante al PP1, non discussa in consiglio. In dissenso anche l'assessore Musa e Parlione, il nodo delle vecchie licenze dell'epoca Cordoma. E poi sempre a Montesilvano, degrado e bivacchi, ondata di manifesti anti-immigrati. Nella notte il blitz del movimento Riprendiamoci Montesilvano tra Via L'Aquila, Fosso Cavatone. Avanti ancora, siamo alle pagine aquilane, ecco qui, parcheggi e terminal Collemaggio, nuovo bando, finisce l'era MP, non ci sarà una proroga della gestione via procedura ed evidenza pubblica, anche per il ripristino delle strisce blu, bisognerà attendere la conclusione dell'Iter. Il sindaco Biondi ha cambiato radicalmente rotta rispetto alla precedente amministrazione. E poi in basso, elicottero del 118 precipitato, ci sono indagati, riferimento all'elicottero che lo scorso mese di gennaio, circa un anno fa, verso la fine di gennaio 2017, precipito sul campo Felice, sotto accusa sono finiti alcuni soggetti che si sono occupati della formazione del pilota. Avanti ancora, Don Giuseppe, 80 anni di fede, l'arcivescovo emerito, sono grato alla chiesa aquilana che prima mi ha visto nascere e poi mi ha avuto come guida nell'emozionata predica della gremita chiesa di Pettino, un continuo pensiero a Papa Giovanni Paolo II. Avanti ancora, siamo alla pagina della Marsica in Aula, la violenza su una minore, e il drammatico racconto della giovane vittima mi minacciava con un grosso coltello e pretendeva che io facessi sesso con lui nella squalida vicenda coinvolta anche la madre, una polacca 44enne con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia. Avanti ancora, siamo alla pagina di Chieti, la D'Annunzio sfornerà nuovi insegnanti per la bassa Sassonia. Si tratta l'accordo con il comune di Forsburg che fino al 2025 assicurerà un ritmo di 10 assunzioni all'anno per le scuole primarie. Un riconoscimento significativo la politica culturale del rettore Caputi dai primi frutti, dice il prorettore della D'Annunzio Stefano Trinchese. Previsti i contratti a tempo indeterminato e stipendi doppi rispetto alla media italiana, il ruolo decisivo del Crami, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo. Siamo ora a Vasto, cronaca, furti con spaccata, c'è un arresto. Gli uomini del commissariato diretto da Fabio Capaldo indagano per capire quali colpi possa avere commesso. Si tratterebbe di un uomo che abita vicino ai locali, presi di mira in centro con stesse modalità e dinamiche. Poi a Lanciano, sempre la cronaca, madre cieca e ragazzo disabile lasciati solo in casa. Fratello e sorella a processo, i due sono stati accusati di disinteresse verso i familiari. Il difensore Troilo in aula, sapremo spiegare tutto. La pagina di Teramo, veterinaria riconosciuta, eccellenza dell'Ateneo. Il traguardo permetterà di ottenere 6 milioni in più spalmati in 5 anni. L'università è arrivata al secondo posto in una speciale graduatoria nazionale. Grazie al finanziamento verranno reclutati nuovi dottorandi e assegnisti di ricerca per costruire allevamenti pilota. Le parole del Rettore Damico. Con questi fondi potremo diventare un centro di studi internazionale. Poi ancora in basso parcheggi, gestione breve da 6 a 8 mesi, caso quello della Tercop. Avanti ancora, siamo a Giulianova Piscina, individuata una soluzione. Si farà riferimento per il quarto uomo all'associazione che usufruisce già di 4 corsie pomeridiane nell'impianto. Questo permetterà che la struttura resti pubblica, l'impegno del Vice Sindaco Cameli e dell'Assessore Canzanese. Arrivano dunque buone notizie anche per Via Bindi e per la biblioteca da sistemare. Lasciamo il messaggero e andiamo a sfogliare ora le pagine della città. Iniziamo dalla viabilità terramana e siamo a pagina 5. Doppio progetto ANAS per il quarto lotto. Il completamento della superstrada alle battute finali. Ieri la riunione in regione sul tracciato. Il primo provvede che la superstrada corra a destra del Tordino. Il secondo sulla sponda sinistra servirà un ponte. Avanti ancora, siamo a pagina 6. Affidati i lavori per l'Istituto Comi. 8 mesi di tempo per sistemare i danni del sisma e migliorare la sicurezza dell'edificio. Poi ancora, regolare il concorsone per gli operatori sociosanitari. Il TAR giudica infondati i motivi di ricorso di 17 candidati esclusi. Poi ancora, stazione sempre a Teramo. Chiaramente, stazione completamente al buio. L'ultimo lampione rotto e anche pericolante. Via Lecrispi illuminato dalle attività. I residenti segnalano problemi con il traffico, ma anche di sicurezza, in uno dei punti sensibili della città. E poi ancora, nuovi allevamenti pilota senza antibiotici. L'obiettivo della Facoltà di Veterinaria con i fondi garantiti grazie all'eccellenza della ricerca. La Facoltà di Veterinaria, grazie al finanziamento da 6 milioni di euro, punta su una campagna di reclutamento di ricercatori. E allora, vediamo il servizio del TG6. Si chiama Demetra ed è il progetto di ricerca scientifico elaborato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, che studierà le interconnessioni tra animale e duomo sull'antibiotico resistenza. Demetra fa balzare agli onori della cronaca l'intero dipartimento, che viene riconosciuto eccellenza nazionale dal MIUR ed ammesso ad un finanziamento di 6 milioni e 500 mila euro. Quali sono stati gli elementi che hanno portato Teramo, la veterinaria di Teramo, a vincere? Una grande qualità nella ricerca, la qualità del corpo docente, dei ricercatori, della Facoltà e direi anche il premio a tutti gli investimenti che l'Ateneo ha destinato alla Facoltà di Medicina Veterinaria. Siamo all'interno di un ospedale che non esito a definire il più bello d'Italia, una questione di bellezza non solo estetica ma di attrezzature, di laboratori. e credo che questo ulteriore riconoscimento, perché questa Facoltà, mi piace ricordarlo, ha l'accreditamento europeo, le AEVE, da diversi anni. È una Facoltà che nelle verifiche di accreditamento periodico del Ministero ha riportato dei punteggi straordinariamente elevati e questo ulteriore riconoscimento sta a suggellare l'impegno di tutti i colleghi della Facoltà e a dimostrare che questa Facoltà è davvero un punto di forza di questo territorio. La veterinaria ha una lunga e gloriosa tradizione nel Terramano, dove da decenni si studia e si progredisce nella ricerca scientifica. Un lavoro corale e certosino che oggi premia l'Università di Teramo riconoscendola tra le migliori Facoltà di Veterinaria in Italia. Abbiamo una storia per cui le eccellenze nascono praticamente dalla storia e Teramo ha una forte vocazione per la veterinaria o l'Abruzzo stesso, basti pensare ad alcuni docenti che adesso non ci sono più, che hanno dato lustro alla veterinaria nazionale e internazionale. Il progetto l'abbiamo chiamato Demetra. Demetra, nella mitologia greca, è la dea dell'agricoltura, Cerere, per la mitologia romana. Quindi ripartiamo dalla terra, ripartiamo dalla madre terra, tant'è che questo progetto di eccellenza, nelle sue parole chiave, racchiude l'ambiente, racchiude gli allevamenti sostenibili, racchiude il benessere animale, racchiude un altro forte vocabolo che è quello dell'antimicrobico resistenza, di cui se ne parla tanto. Sulla città le notizie dalla provincia, via libera i fanghi davanti al parco marino, il servizio rifiuti della regione approva il progetto, ma sindaci e area marina protetta preparano il ricorso al Tarur, ricorso che si fonda sul fatto che quando è stata fatta la scelta il parco marino non era un sito comunitario. E poi ancora a Nereto faceva il pieno con i soldi del comune, tecnico del municipio di Nereto a processo con l'accusa di peculare il benzinaio ascoltato in aula ha confermato che l'uomo utilizzava la card del comune per rifornire la sua auto. E poi a Mosciano lo spacciatore dell'ospedale vendeva eroina anche dagli arresti domiciliari, finisce in carcere il quarantenne di Mosciano, beccato di nuovo dalla polizia. Prima di Natale era stato beccato a spacciare all'interno del reparto di ortopedia. Poi siamo ad Atri, iniziata la corte a Gianmarco Marcone, Atri al voto, prime proposte per l'ex assessore di Gabriele Astolfi. E poi in basso Silvi, agguato a Presutti, mandante ed esecutore in aula, iniziato ieri il processo per il colpo di pistola contro il direttore della motorizzazione. A Roseto il nuovo piano particolareggiato sarà aperto al contributo di tutti. L'architetto Beniamino Di Rico, ieri in municipio, per firmare il contratto. Qui vediamo la stretta di mano col sindaco Sabatino di Girolamo. L'obiettivo saranno definite le volumetrie con le quali valutare ristrutturazioni e demolizioni. Siamo ora allo sport della città e si parla di Teramo e di calcio mercato. Teramo davanti piace Carletti del Carpi, assistito dal procuratore Donato Di Campi. La punta dovrebbe arrivare a giorni. Il centravanti classe 96 dovrebbe arrivare dalla società di B e prendere il posto di Foggia che è ai saluti, vicino alla rescissione del contratto per accasarsi alla Sicura Leonzio. Altre notizie di mercato del Teramo. Addio a Sumare, oltre a Foggia sta per rescindere anche Sumare che va al Dudelanghe in Lussemburgo. E poi un no per Sforzini, l'attaccante della Viterbese. Poteva arrivare a Teramo ma il suo profilo non sembra convincere. Poi in basso le parole del difensore Caidi. Difesa a quattro per essere propositivi. Il mercato non mi interessa. Diamo ora uno sguardo alle prime pagine nazionali delle tre principali d'estate nazionali. Qui siamo sulla gazzetta dello sport che apre così. No Champions, no Icardi. Il piazzamento in campionato e i possibili nuovi introiti sono cruciali per il futuro del capitano che ambisce un ingaggio da top player di 9 milioni a stagione. E intanto arriva quello che viene definito un colpetto per l'Inter. Lissandro Lopez, ok, ora Rafinha. E poi De Laurenti Safretta vede Sarri per il rinnovo. Poi altre notizie sul fronte Milan. Brant e Weigel nel taccuino. E sul fronte Juventus prenotato Cianni. Magnifici 11 a costo zero. Sul Corriere dello Sport. Ecco l'apertura. Inter, boom boom. Nel azzurri scatenati in arrivo di Sandro Lopez e Rafinha. Proposto al Siviglia, Gio Mario per Correa. E poi sotto la testata. Alla fede del calcio serve un uomo nuovo. Il governo del calcio e la necessità di cambiamento. L'81% degli appassionati chiede una svolta radicale al vertice. Tutto sport. Juve, missione, pellegrini. Non solo Emre Can per il centrocampo del futuro. I romanisti intriga anche per la clausola. Rescissoria da 25 milioni. E poi sotto la testata. Mazzarri ok a Donzai. In arrivo da Massan. E di spalla. Inter è scatenata. Alessandro Lopez. Poi Ramirez. Novità Correa. Poi via via tanti altri richiami di calcio mercato. E torniamo alle pagine abruzzesi dello sport. Andando sul centro. Ecco qui. Anche in questo caso calcio mercato. Legato al Pescara. E a tal proposito il Nizza. Piomba su Brugman. Zamparini frena Embalo. Ma il Pescara vuole chiudere. I francesi vogliono il capitano del Delfino. Sebastiani chiede 5 milioni di euro. Il patron dei siciliani vorrebbe trattenere l'attaccante che ha scelto Zeman. La società tenta di convincere il patrono rosanero per avere il guineano. Oggi nuovo incontro. Se l'affare si sblocca del sole torna al Juventus. Se sono al momento 33 i giocatori in organico. Servono almeno altre 6 cessioni. E una delle partenze potrebbe essere questa qui. Il centrocampista Ransford-Selasi. Avanti ora con la Serie C. Teramo-Carletti nel Mirino. Sumarein-Lussemburgo. I biancorossi di Asta a caccia dei rinforzi. Interesse del centro avanti del Carpi. Sondaggi per il centrocampista Danza del Pordenone e Milani della Lupa-Roma. Roma. Avanti ancora. Siamo alla Serie D. Avezzano-Vastese. I tifosi biancorossi rimangono a casa. La questura vieta la trasferta ai sostenitori aragonesi per il derby del De Marsi. Società infuriate. Che delusione. E poi il calcio a 5. Pescara aspetta la Lazio e riapre il paralegopiano. Il Delfino domani riabbraccia i tifosi dopo 6 mesi di squalifica. L'acqua e sapone a Pesaro. E poi per il basket Roseto sul mercato. Ryan Amoroso e il nuovo obiettivo. Sharks sulle tracce del pivot italo-americano. X4 Lee ora gioca in Argentina da valutare il budget. Poi l'astro nascente da Teramo a Little Rugby. Riccioni strega Oshii. Il pilone nel team azzurro che prepara i sei nazioni. Che sorpresa le sue parole. Il nuovo che avanza. Mi sono appassionato alla pallovale grazie a un amico. Dopo aver praticato tantissimi altri sport. Ed è stato amore a prima vista. Sono reduci da un infortunio al menisco. E la chiamata dell'Italia è una cosa straordinaria. Voglio migliorare tanto. E provare a laurearmi. Ora il messaggero Abruzzo. Ecco qui ancora calciomercato legato al Pescara. Ma non solo perché ci sono anche le parole del difensore Marco Perrotta. Pescara il ritorno deve essere migliore. Il guerriero Marco Perrotta è già in clima campionato e lancia la sfida. Il mercato. Il Palermo nicchia per Embalo. Il crotone bussa per Benali. No al prestito. Ascoltiamo proprio le parole del difensore Perrotta. Come obiettivo di scuola abbiamo quello di far meglio dell'andata. Perché comunque pur avendo fatto bene si può migliorare non di poco. Poi a livello personale spero comunque di continuare a giocare. Di aumentare il mio miglioramento. E comunque a livello di prestazioni di aumentare la media. Trascorse le vacanze e finite le festività. Siete tornati a lavorare. Questo è un periodo particolare perché siamo in pieno mercato invernale. Però Marco Perrotta non è toccato da tutto questo perché resterà sicuramente a Pescara. No vabbè io spero di rimanere qui perché comunque ci tengo molto a finire questa stagione a Pescara. Poi abbiamo avuto poche vacanze però ce le siamo godute con le nostre famiglie quasi tutti. E ora siamo tornati più carichi di prima. Mancano dieci giorni al match contro il Foggia. Cosa servirà per fare almeno un risultato positivo? Io ricordo la partita d'andata che sicuramente è stato un risultato bugiardo. Perché il Foggia è un'ottima squadra. Starà accogliendo poco davanti al suo pubblico però sicuramente vorrà riscattarsi. Quindi sarà una partita difficile ma noi cerchiamo di prepararla al meglio. In questo girone di andata sei stato forse il difensore che ha avuto, anzi senza forse, il difensore del Pescara che ha avuto meno problemi fisici rispetto ai tuoi colleghi in difesa. Ci sono diversi giocatori fuori, questo è un problema per voi? Io cerco di curarmi al meglio anche nell'alimentazione fuori dal campo. Cerco di prevenire il più possibile queste cose. Però comunque giocatori come Bovo e Coda hanno avuto già proprio nel ginocchio quindi ci sta che qualche problemino se lo portano dietro. Però comunque non hanno mai mollato e sono un esempio per tutti. Non ti voglio ovviamente far entrare in vicende di mercato però il 31 gennaio potremmo vedere un Pescara diverso da quello attuale forse anche con un organico numericamente meno numeroso. Sicuramente se gente viene qui per aiutarci e darci una mano a noi ci fa solo che piacere. Se si aumenta la competizione ci dà solo uno stimolo in più per far meglio e per affrontare le partite alla grande perché noi credo meritiamo una classifica più alta. In chiusura sempre sulle pagine dello sport del messaggero l'Aquila lo strappa con Aurelio e Dionisi il giorno dopo la presentazione di Miani il clamoroso silenzio della proprietà. Poi ancora Serie C, Teramo, Carletti e Milani in arrivo. Il Vicenza continuerà, Patron Campitelli rompe gli Indugi, Foggia, La Sicola, Leonzio, Sumare al Dudelanghe in Lussemburgo. L'attaccante di proprietà del Carpi da Pordenone, uno scambio, Altobelli, Danza. E poi per la Serie D, Vastese preso Maronilli, trasferta vietata ai tifosi per il derby. E poi sul fronte Avezzano, Iacovitti consolidare i play-off. Il DG domenica in vista del derby, tanti tifosi allo stadio. Noi ci fermiamo con questa edizione odierna di Mattino 6. Vi rimando alle tre edizioni del nostro notiziario per le ultime notizie di giornata. Il TG6 delle ore 14, poi quello delle ore 19 e quello delle ore 23. È tutto grazie a Claudio Di Giacomo in regia. E grazie a voi per la cortesa attenzione. Buona giornata. 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 Buona giornata.